Musica Eccoci con Ora Tg, il notiziario di Ray TV sul canale 18 del digitale terrestre in Sicilia. Ben trovati, apriamo subito con la cronaca, andiamo a Catania, grossa operazione della Guardia di Finanza, una grossa operazione antidroga ma che lega anche mafia, riciclaggio e ovviamente anche reimpiego dei soldi che erano frutto della vendita della sostanza stupefacente in attività apparentemente lecite. Tutto questo nella operazione Slot Machine. La vase logistica era a Catania ma ramificazioni si estendevano anche su comuni dell'area etnea avarcando i confini fino a Siracusa, Trapani e Palermo. Sono 21 le persone destinatari di ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Catania ed eseguite dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 140 i baschi verdi impegnati nella operazione Slot Machine, fiumi di droga e denaro, quest'ultimo reinvestito in attività illecite. I reati associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, aggravato dall'aver agito con metodo mafioso, detenzione e commercio di stupefacenti, autoriciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti, nonché trasferimento fraudolento di valori e detenzione di munizioni. Sequestro finalizzato alla confisca di attività, beni mobili e decine di rapporti finanziari. Le investigazioni durante circa due anni hanno consentito di ricostruire l'operatività sul territorio di un'associazione criminale che sarebbe stata diretta da quattro fratelli, Franco, detto Ciccio, Giuseppe, detto Pinuccio, Fabio e Santo Vitale, i quali da agosto 2018 ad agosto del 2020 avrebbero gestito il rilevante traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana, hashish, fungendo da veri e propri grossisti per ulteriori soggetti dediti all'approvvigionamento delle locali piazze di spaccio. Il sudalizio avrebbe avuto profili di contiguità con il clan Cappello Bonaccorsi. Il gruppo, per favorire il lucroso business, si sarebbe avvalso del carisma criminale di Santo Aiello, cognato dei fratelli Vitale. Dalle indagini è emerso inoltre che i fratelli Vitale si sarebbero assicurati stabili forniture di rilevanti quantità di stupefacenti attraverso due canali principali. Il primo con base operativa in Toscana, vicino Firenze, il secondo attivo nella città di Catania, è riconducibile alle figure di Salvatore Coppia e Nunzio Cacia. Le indagini partono dalla ricostruzione di un sudalizio criminale che si occupava del traffico ingente di sostanze stupefacenti nella provincia di Catania. Partendo dalle evidenze riscontrate a carattere militare, siamo poi scesi nei dettagli economici dell'azione criminale di riempiego dei proventi illeciti acquisiti. Un'indagine a tutto tondo, che è partita ovviamente dall'individuazione dei soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti, ma che poi è andata a mirare l'attenzione, quindi a puntare tutta l'attenzione, sull'aggressione patrimoniale perché tolti i fondi alle organizzazioni criminali ovviamente si riesce a disarticolare in maniera efficace l'illecità diffusa che c'è nel territorio. La base logistica era qui sulla città di Catania, ma vi erano anche alcuni comuni limitrofi come Via Grande o Gravina di Catania. L'organizzazione si assicurava il buon andamento del lucruoso traffico di sostanze stupefacenti. qualora avesse avuto bisogno di interventi per la risoluzione di problematiche, si rivolgevano a questo esponente e già il fatto di utilizzare il nome del clan Cappello serviva a dirimere le eventuali controverse sorte. Sbantellata dai carabinieri di Taormina, un'organizzazione che a Santa Teresa di Riva e furci siculo spacciava cocaina e crack, nove gli indagati e otto gli arrestati, indicative le segnalazioni dei cittadini. Hanno detto basta, non ne potevano più, hanno segnalato ai carabinieri la fiorente attività di spaccio che adesso i militari dell'arma della stazione di Santa Teresa di Riva e della compagnia di Taormina diretti dal capitano Giovanni Riacà hanno azzerato. Siamo tra furci siculo e Santa Teresa di Riva appunto dove cocaina e crack venivano quotidianamente spacciati da una banda attrezzata di tutto punto e per la quale adesso sono scattati i provvedimenti di misura cautelare emessi dalla GIP del Tribunale di Messina. Nove le persone indagate, quattro di queste destinatari della custodia in carcere, altre quattro agli arresti domiciliari, uno con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In questo lembo di costa messinese, crudo e cotto non significava solo l'acquisto di prosciutto in salumeria ma nel mondo dello spaccio l'acquisto di sostanza stupefacente, crudo crack, cotto cocaina. La banda si sarebbe approvvigionata di droga nel capoluogo messinese. Poi, una volta divisa in dosi, veniva ceduta e puscere con il metodo del passamano o lanciata dalla finestra di un'abitazione in cui il personaggio ritenuto essere il punto nodale dell'intera organizzazione, assieme ad un braccio destro, cedeva la droga e puscere che raccoglievano al volo la merce. Tutto con massima discrezione e con tempi davvero rapidi anche per evitare controlli da parte delle forze dell'ordine, ma tutto ciò non è bastato per ingannare i carabinieri che con servizi di osservazione, attività tecnica, interventi e controlli hanno ricostruito le varie fasi della filiera, facendo così scattare. Durante la mattinata di oggi l'operazione denominata appunto cotto e crudo. Precedentemente i militari dell'arma di Taormina avevano già proceduto all'arresto in flagranza di reato di sei persone per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché al deferimento in stato di libertà di altre due persone alla segnalazione di sette giovani alla prefettura di Messina, quali assuntori di droghe. Ci sarebbe un legame personale nell'agguato di ieri pomeriggio a Siracusa e quanto emerge dalle indagini della squadra mobile che ha fermato per tentato omicidio porto di arma clandestina in ricettazione Giovanni Merlino, 37 anni ed un complice di 40. Merlino si è in realtà costituito in pestura. La vittima, uno 42 e 49enne, attuale compagno dell'ex fidanzata di Merlino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è stato attinto da colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di ieri ad entrambe le gambe, colpi esplosi da un uomo che era su un'autovettura condotta da un complice. Le videoriprese hanno portato gli inquirenti proprio verso Merlino che era stato notato con pistola in mano. Successivamente la esplosione di colpi d'arma da fuoco e infine lo stesso Merlino è poi riuscito a salire in auto per andare via immediatamente. Sono scattate le ricerche, le immagini, come dicevamo poi, Merlino che si è costituita in questura, ma la vittima era ricoverata in ospedale e essendo stata destinataria di misura cautelare in carcere per evasione dagli arresti domiciliari è stata arrestata ed è attualmente piantonato in ospedale. Voltiamo pagina ma rimaniamo sempre in cronaca perché formaggio per oltre 1500 kg non idoneo al consumo umano è stato sequestrato in un caseificio di Belpasso risultato privo di autorizzazione con un controllo della NORAS del corpo forestale controllo svolto congiuntamente con l'ASP di Catania. Il laboratorio era privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria all'interno oltre 1500 kg di formaggio non idoneo al consumo. L'operazione di controllo è del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia-NORAS del corpo forestale regionale con l'ausilio dei veterinari dell'ASP di Catania. Il caseificio è ubicato in contrada valcorrente a Belpasso dagli accertamenti del NORAS sarebbe emerso che l'azienda sarebbe stata priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria. Nella struttura è stato trovato anche del vino imbottigliato privo di etichetta o tracciabilità circa 400 litri di olio di oliva poi medicine per animali un'affettatrice, un tritacarno, una macchina per il sottovuoto otto coltelli da macellaio, una mannaia. Sommando il tutto, il NORAS lascia aperta anche l'ipotesi della probabile macellazione abusiva visto appunto il ritrovamento in un banco congelatore anche di carni selezionate in cattivo stato di conservazione. macella frigorifera che sarebbe stata utilizzata prevalentemente per i formaggi sono state rilevate anche tracce di sangue e all'esterno della struttura in un recipiente in ferro sono stati rinvenuti resti di parti di carcasse di animale di specie non identificata. Tutti gli alimenti sono stati sequestrati destinati alla distruzione perché ritenuti dalla personale dell'ASP non idonei all'alimentazione umana sequestrati anche gli utensili e gli attrezzi utilizzati per la caseificazione e la commercializzazione abusiva oltre ai farmaci per gli animali. Il proprietario è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Temperature rigide ma il tempo previsto ovunque in Sicilia nelle prossime ore è un'ottendone per riparare dal freddo fino ad una cinquantina di persone senza fissa dimora sarà allestito già stasera a Catania al centro fieristico Leciminiere l'iniziativa è coordinata dal Comune ed intesa con la Prefettura la Curia Catanese volontari del terzo settore consente di approntare con l'ausilio della Croce Rosso un'area di accoglienza grazie alla pronta disponibilità della struttura che è, lo ricordiamo, di proprietà della città metropolitana. I senza tetto verranno accolti dall'unità di strada del Comune di Catania accompagnati nell'area riscaldata delle Ciminiere dove saranno rifocillati con pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas di Ocesana. A Daci San Filippo frazioni di Acicatena le campane della Basilica suoneranno a festa per annunciare le nuove nascite la proposta del parroco Don Roberto Strano è stata accolta con entusiasmo dalla comunità parrocchiale. Lo scampanio a festa sta per annunciare le nuove nascite e che scampanio festoso e prolungato per rimarcare l'arrivo di una nuova bimba o bimbo ai fedeli residenti un gesto aggregante e festoso per ogni nuovo vagito è l'idea del parroco della Basilica di Aci San Filippo frazione di Cicatena Don Roberto Strano accolta con entusiasmo dalla comunità parrocchiale. L'iniziativa scaturisce dalla celebrazione della Chiesa in occasione della 45esima giornata nazionale per la vita. Il sacerdote ha comunicato la decisione durante l'omelia di domenica scorsa raccogliendo unanimi consensi tra i parrocchiani. Il concetto è semplice sottolinea il religioso annunciare solo la morte è molto limitativo come se fossimo destinati all'estinzione. Manifestare anche la nascita significa celebrare l'intero ciclo dell'esistenza umana. Lo scampanio solitamente collegato agli eventi liturgici in tempi ancora più remoti il suono delle campagne veniva utilizzato come segnale di pericolo in caso di imminenti invasioni. Il tintinnabulum noto sin dall'antica Roma informava invece il popolo delle vittorie conseguite dagli eserciti romani nelle campagne militari di espansione in Europa come Medio Oriente. Il suono delle campane ha percorsi i secoli sia nella buona come nella cattiva sorte. Dalla possente torre campanaria della Basilica di Ece San Filippo le campane a festa da oggi annunceranno le nuove nascite. L'invito è rivolto a tutti coloro che risiedono nella popolosa frazione Catanota di Ece San Filippo i quali possono comunicare al parro con la nascita di un figlio o figlia e attraverso il suono delle campane a festa verrà annunciato alla comunità. Domenica abbiamo celebrato la 45esima giornata nazionale della vita e la conferenza episcopale italiana come ogni anno ha mandato un messaggio in cui ancora una volta si evidenziava il valore inestimabile della vita dal suo concepimento alla sua naturale conclusione. Ecco, siamo soliti nelle nostre comunità annunciare l'evento della morte attraverso un suono tradizionale che prende il nome in siciliano di Bom Muriri e si conclude con due o tre rintocchi a secondo se il defunto è un uomo o una donna e questo suscita nei paesani un momento di dolore di costernazione non di rado vengono addirittura a chiedere chi sia venuto a mancare. Ecco, allora ho pensato perché non far allegrare la comunità anche quando nasce un nuovo membro nella comunità in questo caso un bambino o una bambina allora ho lanciato l'idea l'iniziativa proprio nella giornata nazionale della vita che è stata benissimo accolta dai parrocchiani sia a voce sia attraverso i commenti dei social che appena mi si comunicherà la nascita di un bimbo o di una bimba suoneremmo le campane a festa celebrando così l'intero ciclo della vita dalla nascita alla morte se noi suonassimo solo ed esclusivamente nel caso della morte come avviene come è avvenuto tuttora saremmo quasi destinati all'estinzione è come se non ci fosse futuro pian piano ce ne andremo tutti annunciando pure la nascita annunciamo il ciclo della vita e quindi la vita nella sua interezza A Palermo è morto in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia Salvatore Potenzano 83 anni per le gravi ferite riportate in un incidente stradale verificatosi circa 20 giorni fa il pensionato era stato infatti investito da uno scooter in viale Michelangelo il mezzo a due ruote era guidato da un noventotenne che adesso è accusato di omicidio stradale A Palermo in corso di realizzazione un murale che ritrae Biagio Conte il missionario laico scomparso lo scorso mese l'opera sarà inaugurata domenica prossima in occasione del trigesimo Con i suoi occhi azzurri la barba lunga e le mani giunte Biagio Conte il missionario laico scomparso il mese scorso riempe di colore e di luce uno dei grandi palazzi del quartiere Sperone di Palermo l'artista che sta realizzando il murale in fase di completamento Igor Scalisi appena sceso dalla gru osserva con attenzione l'opera per capire cosa c'è ancora da aggiustare migliorare e perfezionare per rendere il dipinto ancora più autentico di quanto non appaia già stamattina ancora pochi giorni e sarà terminato ci dice dietro la scelta di averlo realizzato qui allo Sperone c'è più di un motivo in questo quartiere al quale Biagio era legato va tenuta alta l'attenzione negli anni 90 proprio all'inizio della sua missione Biagio Conte è venuto qui a erigere una croce proprio accanto al muro che sto dipingendo quindi lui si è accorto della fragilità di questo luogo e della cura che questo luogo aveva bisogno e lui che aveva a che fare con gli ultimi della terra ha capito che qui ci sono degli ultimi che ancora oggi non sono considerati e questo adesso è il settimo murale che facciamo questo non è solo una commemorazione questa è una denuncia che noi portiamo avanti perché questo luogo ha bisogno della cura delle istituzioni che spesso sono assenti Biagio Conte è qui una presenza solida e imponente su un muro ben visibile da molti punti del quartiere il missionario laico però guarda lontano come ha sempre fatto nella sua vita lo sguardo è rivolto verso Monte Pellegrino luogo sacro perché ospita il santuario di Santa Rosalia da sempre meta di pellegrinaggio lui guarda verso Monte Pellegrino che è il luogo sacro il monte sacro per eccellenza per noi palermitani e forse abbiamo anche noi bisogno di nutrirci di questa spiritualità al di là di ogni fede sicuramente elevare il nostro spirito ci consente di essere persone migliori e quindi vivere meglio in comunità domenica prossima oltre ad essere il giorno del signore ricorre il trigesimo di Biagio Conte il murale verrà inaugurato quest'opera dedicata alla memoria del missionario laico è un modo per il quartiere non solo di rendergli omaggio ma di ringraziarlo proprio da qui sotto questo palazzo nel 1992 Fratel Biagio iniziò la sua attività che lo vide per tutto il resto della sua vita impegnato al fianco dei bisognosi l'Ast l'azienda siciliana Trasporti continuerà a garantire collegamenti urbani verso 14 centri di sua competenza era stata una ipotesi che sembrava dovesse saltare invece ieri si è giunta a questa decisione nel corso di un vertice vediamo dopo la protesta dei dipendenti dell'Ast che ieri pomeriggio hanno manifestato a Palermo davanti le porte dell'assessorato regionale le infrastrutture per chiedere la non interruzione del servizio alla fine si è giunti ad un'intesa nel vertice che si è svolto ieri infatti si è deciso che l'azienda siciliana Trasporti dal primo marzo al contrario di quanto precedentemente annunciato continuerà a garantire i collegamenti urbani verso i 14 centri della Sicilia gestiti dall'azienda pubblica nello specifico Acireale, Augusta Barcellona, Pozzo di Gotto Caltagirone Carlentini Chiaramonte Gulfi Gela Lentini Milazzo Modica Paternò Ragusa Scicli e Siracusa la fumata bianca è arrivata nel corso di un incontro che si è tenuto all'oratorio dei Santi Elena e Costantino al quale ha preso parte l'assessore Alessandro Aricò insieme ai vertici dell'Ast l'azienda non versa in buono stato a un buco di 70 milioni di euro intanto i sindacati nei giorni scorsi hanno chiesto la ricapitalizzazione dell'Ast da parte della regione socio unico insieme ad un piano aziendale senza queste due cose parere dei sindacati il futuro dell'azienda resta incerto ed eventuali affidamenti ai comuni e ai privati non offrirebbero alcuna garanzia per i lavoratori rimaniamo in tema di trasporto pubblico perché stamattina davanti al polo AMTS di Catania sit-in dei protesta di dipendenti aderenti ai sindacati Faisa Cisal Will e UGL pronti a sciopinare se vecchie e nuove questioni non verranno a breve risolte nei mesi scorsi la dichiarazione dello Stato di agitazione oggi il sit-in in vista di uno sciopero per dare impulso ad una situazione che si trascina da tanto troppo tempo Faisa Cisal Will Trasporti e UGL Trasporti in protesta davanti alle officine della MTS di Catania siamo alla zona industriale per manifestare il dissenso sulla gestione da parte dei vertici aziendali attuali oggi è l'ennesima protesta legittima dei lavoratori Faisa Cisal UGL Will hanno fatto un sit-in proprio in questo momento da stamattina alle 9 per dire all'azienda basta purtroppo non è che è solo l'azienda che non risponde ma anche le istituzioni abbiamo fatto uno stato di agitazione la prefettura ad oggi non ci ha convocato noi procederemo con le varie fasi proclamiamo lo sciopero in una situazione già devastata dalla mancanza del 50% del servizio e qui a Catania non se ne accorge nessuno sotto le festività di Sant'Agata quando la MTS ha dato il massimo di se stessa grazie ai lavoratori non ai vestiti aziendali grazie ai lavoratori tutti che hanno dato il proprio contributo quest'anno è stato proprio un flop questa è la situazione abbiamo dei punti importantissimi per questa protesta ad oggi non sono stati risolti vi dico semplicemente che per l'ennesima volta hanno speso soldi per cambiare i programmi delle buste paghe e ci sono tutte le buste paghe sbagliate abbiamo delle necessità di trovare delle soluzioni per l'area di lavoro per tutti i settori l'officina movimento gli stessi lavoratori che fanno segnalati corizzontali che lavorano di notte anche dei problemi la direzione generale e la presidenza risponde picche ma la situazione è una situazione vecchia non è una situazione che nasce oggi è una situazione del passato abbiamo cercato di fare capire alla presidenza al direttore ma soprattutto alle istituzioni che quando ci sono i lavoratori che programmano lo stato di agitazione che ci sono problemi che devono essere affrontati così indignamente dico ci sono rimasto male che nessuno ha questa soluzione gli sta al cuore non si può circolare con delle vetture con delle bombole che trasportano un gas pesantissimo è pericolosissimo come il metano e farlo camminare con bombole scadute è una cosa grevissima questo conseguenzialmente si è ripercorso sul nostro servizio noi siamo un'azienda che abbiamo portato milioni e anzi direi miliardi di catenesi dalla sua nascita ad oggi oggi possiamo dire che il nostro servizio è veramente allo stremo la figura del personale sanitario soprattutto dopo la pandemia da covid-19 un ruolo fondamentale nelle strutture ospedaliere cresce la domanda ma anche un'ampia offerta formativa proprio per andare in corsia persone adeguate alle diverse emergenze appunto di carattere sanitario l'importanza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere soprattutto oggi dopo un biegno fortemente segnato dalla pandemia covid-19 uno sforzo difficilmente quantificabile da parte di queste figure lavorative di cui è emerso ancora di più il ruolo fondamentale e il valore all'interno della tutela quotidiana della salute tra le categorie principali figura quella degli infermieri al centro di un bisogno sempre crescente da parte delle comunità locali e dei nuclei familiari il riferimento non è inerente soltanto al coronavirus che ha monopolizzato buona parte delle risorse a disposizione ma anche ai disagi di ogni giorno in uno spaccato che va dai piccoli malanni alle malattie più delicate da trattare per i cittadini è sempre più importante poter fruire di una sanità pubblica efficiente a causa del covid si è creata l'esigenza di aumentare il personale sanitario ed amministrativo per gestire l'emergenza sanitaria ancora in parte in atto e così aumentano anche a Catania le offerte di formazione a 360 gradi per tutte le figure sanitarie l'obiettivo è quello di potenziare il personale sanitario e alleggerire il carico di lavoro in tutte le strutture ospedaliere rappresento la lente di formazione che è stata inaugurata da poco è nata diciamo questa grandissima realtà iniziativa per dare formazione a 360 gradi a tutte le figure sanitarie potenziare il personale sanitario parlo per la mia provincia di Catania e alleggerire il carico di lavoro in tutte le strutture ospedaliere è uno diciamo di Formasan è uno degli obiettivi principali che sarà organizzato dall'ente di formazione dico sempre che noi formatori e noi enti abbiamo una grossa responsabilità che è quella di dare veramente creare più figure professionali soprattutto figure preparate sul campo perché abbiamo a che fare con esseri umani insieme al mio staff attraverso la formazione ci saranno nuovi orizzonti e nuove iniziative a favore delle figure sanitarie non solo formazione ma anche collocazione nell'ambito lavorativo sarà un ulteriore traguardo quello anche di operare anche nell'ambito della collocazione sull'ambito lavorativo e si sta attivando anche la creazione di un'agenzia per il lavoro quindi dare formazione ma anche soprattutto dare anche possibilità di lavoro che oltre alla formazione alla crescita personale supporterà l'allievo quindi formazione e successivamente anche mondo di lavoro in un collocamento mirato con l'obiettivo di costruire un rapporto diretto con le aziende a Catania cresce la domanda e il nuovo centro Formasan offre un'ampia varietà di corsi master eventi ECM corsi di specializzazione accreditamento ECM a livello nazionale con formazione completa noi daremo una formazione completa perché un ente di formazione deve dare una grossa responsabilità che è quella di preparare più persone possibili perché stanno a contatto con esseri umani e è giusto che sappiano dove mettere le mani Entra a far parte del network dei giardini italiani Villa Schiller di Taormina un'oasi di varietà botaniche nel centro storico della rinomata località turistica isolana I giardini storici d'Italia l'organizzazione che promuove in ambito nazionale ed europeo oasi botaniche si impreziosisce di un'altra perla il parco esotico di Villa Schiller di Taormina un'area verde privata incastonata nel centro storico della capitale turistica della Sicilia che si sviluppa su 1400 metri e conta 350 tra piante autoctone e di paesi lontani abilmente piantumati in questo spicchio di terreno a terrazzamento interno all'hotel che porta il nome del fondatore della struttura ricettiva Eugen Schiller che ha saputo trasmettere ai suoi eredi l'amore per la natura rimasta inalterata dall'Ottocento ai giorni nostri anzi arricchita con nuovi vegetali da Ghiera Schiller nel corso dei suoi viaggi in giro per il mondo dalla pianta del caffè che qui ha assunto le connotazioni di un albero ai kiwi mango capperi l'orto officinale alle piante da tè della specie asiatica per non parlare dei nuovi inserimenti di quelli che verranno realizzati in futuro con tanto di targhetta esplicativa da oltre 100 anni il parco rappresenta il fiore rocchiello dall'albergo curato con passione e perizia dai giardinieri che si sono succeduti nel corso del tempo i veri custodi della riserva che operano sotto l'occhio attento ed esperto del signor Schiller appassionato come il nonno di botanica oggi il giardino è affidato a Francesca Chillemi entusiasta giardiniere e profonda conoscitrice di fitologia che la impegna tutti i giorni nella cura di ogni singola pianta di questo patrimonio di biodiversità in un contesto di grande bellezza tra viali fontane e angoli relax ai tradizionali agrumi siciliani ogni arbusto e senza arborea presente tra i sentieri del graticcio sorretto da un colonnato nelle singole partiture è un trionfo dei sensi per i visitatori il meritato accesso nel sistema dei grandi giardini italiani la rete che promuove le peculiarità di un settore che richiama milioni di appassionati da tutto il mondo impegna il proprietario nel preservare le specie a non utilizzare fertilizzanti chimici ma solo con cimi naturali prodotti nella compostiera presente a inchiesta da cento anni all'interno del giardino organizzazione teotonica per questo incantevole luogo che salta lo spettacolo della natura in ogni stagione lo è per noi come albergatori ma anche come amanti del giardino lo è per Taormina lo è per quello che è il turismo perché oggi il turismo non è soltanto andare a mare andare a visitare ma anche i giardini hanno un loro ruolo ben importante nell'ambito di quello che è la scoperta di un territorio e ci ha fatto molto onore dopo tre anni di essere riusciti a superare le prove diciamo così ed entrare in questo prestigioso circuito nel 1902 fu suo nonno Eugène a realizzare questo giardino sì nel 1902 mio nonno acquistò questo terreno e ci costruì casa propria poi dopo diventò albergo con la sua morte nel 1905 dal 1905 siamo il più longevo a livello di continuità gestionale albergo della Sicilia sono 118 anni adesso il parco esotico Schuller ha un'altra caratteristica poco nota detiene un record di tutto rispetto con le 350 varietà presenti in un appezzamento di poco superiore ai 1400 metri quadrati rispetto alla villa comunale di Taormina ben più estesa ma con solo 170 specie alborie il giardino si può visitare tramite pre-rotazione Francesca Chillemi la curatrice di questo luogo di delizie il giardino ha bisogno di ancora più cure e delizioni in modo da essere più fiorito da poter rispondere anche ai quesiti alle domande che i turisti che verranno i visitatori potrò dovrò rispondere a loro praticamente quindi una bella esperienza una nuova esperienza ed è bellissimo essere qui perché la natura è noi siamo natura e da lì veniamo e dobbiamo rispettarla dobbiamo conservarla è il deputato nazionale Francesco Ciancitto componente della commissione parlamentare affari sociali e sanità l'ospite di oggi dell'intervista parleremo del sistema sanitario in Sicilia ma anche di lavoro e di infrastrutture collegate in diretta la collega Valeria Maglia direttrice di Medical Excellence TV appuntamento alle 21 anche su Facebook in replica domani alle 13 e alle 23.30 con l'intervista con questo appuntamento televisivo noi ci prendiamo qualche istante di pausa a linea alla regia questa mattina Paolo Cocco e Manuela Musumeci ci rivedremo subito dopo gli spot eccoci in studio dopo la pubblicità non ci sono altre notizie dunque chiudiamo il giornale con il meteo Le previsioni del tempo in Sicilia del 9 febbraio cielo ovviamente nuvoloso così abbiamo detto più volte in queste ore in questi giorni questo fronte nuvoloso che interesserà principalmente la nostra regione piogge anche a carattere temporaresco un po' ovunque nei diversi quadranti dell'isola i venti saranno forti da nord nord-ovest i mari tutti mossi i bacini che circondano la nostra regione le temperature adesso particolarmente basse le minime con percezione anche al di sotto del valore di zero gradi le massime leggermente più alte principalmente nella costa orientale dell'isola bene con il meteo noi ci salutiamo termina qui questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con la RATG questa sera alle 19.45 grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti a voi tutti Grazie a tutti.